Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione DRTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Nelle ultime sedute ancora un forte impegno da parte dell'Aula di Palazzo del Pegaso nello schierarsi contro la violenza sulle donne e proprio legato a questo tema c'è stata l'approvazione di due atti specifici. Vediamo. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità due atti a favore delle donne vittime di violenza. Nel primo l'attenzione è stata posta sul tema dell'indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di ogni forma di violenza e impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del Parlamento, anche in sede di conferenza Stato-Regioni. Il secondo atto, presentato dal gruppo della Lega, prevede invece l'impegno per la Giunta di promuovere la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, anche mediante il coinvolgimento della Commissione Pari Opportunità e dell'Associazionismo regionale, oltre ad un percorso specifico per una maggiore diffusione del numero antiviolenza e antistalking 1522. La tutela e la difesa delle donne vittime di ogni forma di violenza è un tema che ogni giorno merita la nostra attenzione perché all'interno di quelle convenzioni e di quei protocolli che fanno sì che si possano tutelare appunto le vittime è necessario fare attenzione a ogni singolo tassello. E ce n'è uno che può essere messo in campo dalle amministrazioni con questo strumento amministrativo che è appunto la residenza fittizia che altro non è che un modo per permettere a queste persone di non essere identificate, localizzate da quelli che sono stati o che sono i loro aggressori. Per fare questo abbiamo chiesto che il Parlamento nazionale si adoperi perché riesca a fare una normativa a quadro che metta in condizione tutti i comuni di poter costituire appunto questo che è un indirizzo fittizio appunto non esistente ma che sia in grado comunque di essere utilizzato dalla vittima, dalle donne per poter adempiere a tutte le pratiche amministrative e burocratiche che necessitano appunto di un indirizzo ma che non sia riconoscibile. Sono anche soddisfatta perché ha trovato l'unanimità dell'intero consiglio regionale ed è un altro piccolo passo, un altro piccolo tassello nella rete di protezione appunto per le donne vittime di violenza. Siamo in un periodo in cui siamo particolarmente scossi da fatti brutali e sanguinosi che non si fermano però quelli di cui parliamo più spesso sono appunto i femminicidi che è l'estremità assoluta di quello che accade. Ci sono tante donne che subiscono quotidianamente violenza a tutti i livelli e in più occasioni e quindi dar tutela anche a loro prima di arrivare ad una degenerazione del problema credo sia di assoluta importanza. Altro tema all'ordine del giorno in Palazzo del Pegaso quello del PNRR. È stata chiesta infatti maggiore chiarezza da parte del Governo sulla revisione dei fondi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con l'approvazione di una mozione. L'Aula di Palazzo del Pegaso chiede chiarezza sulla revisione della Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza proposta dal Governo Meloni. La mozione, approvata con il voto favorevole di Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle e quello contrario di Fratelli d'Italia e Lega, impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti dell'esecutivo per fare in modo che siano fornite alle regioni e alle amministrazioni locali informazioni certe sulle risorse che verranno sottratte agli interventi già programmati da questi enti. Si chiede anche che vengano individuate con urgenza in tutti i casi di decurtazione definitiva fonti di finanziamento alternative definendo le relative modalità di erogazione. A luglio il Governo presentò una proposta di rimodulazione del PNRR che prevedeva anche un taglio di risorse che per la Toscana dei 5,9 miliardi che dovrebbero essere assegnati per i progetti presentati dai comuni, dalle province e dalla regione stessa in settori strategici pensiamo ad esempio alla sanità con le case di comunità, con gli ospedali di comunità con i centri operativi territoriali prevedevano una revisione ma ad oggi non sappiamo quali sono i progetti che eventualmente dovrebbero essere definanziati e anche qui teniamo conto che ci sono dei progetti che sono già stati appaltati che sono in fase di appalto addirittura lavori che sono in fase di esecuzione quindi provocherebbero anche dei danni ingenti ai bilanci degli enti che li stanno portando avanti. Io ritengo che il PNRR vada letto in termini economici se questo produrrà o meno una ricaduta economica lo sarà il tempo a dirlo è evidente che gli investimenti nel breve periodo producono anche un aspetto di carattere economico nel contempo anche in parte inflattivo quello che dobbiamo valutare è la capacità di un investimento di produrre reddito, ricchezza e soprattutto di migliorare il quadro infrastrutturale della nostra regione migliorare il quadro dei servizi e la competitività delle imprese Io da tempo mi battevo anche rispetto alla questione di dover rimodulare un intervento che era nato post-covid che poi ha visto l'arrivo di alcune guerre il cambio della questione di carattere energetica e l'evolversi di tante situazioni nei termini economici quindi una rimodulazione a me non scandalizza credo che serva un'attuazione puntuale e un'erogazione sul territorio di interventi che portino a un miglioramento del quadro economico sociale e infrastrutturale della nostra regione E dal Consiglio regionale è arrivato pure l'ok all'autorità portuale, la nuova legge che disciplina proprio questo aspetto una nuova legge che va ad interessarsi soprattutto sul personale dell'autorità portuale toscana Il personale dell'autorità portuale toscana sarà trasferito nel ruolo unico regionale per garantire la piena funzionalità dell'ente La nuova legge regionale è stata approvata a larga maggioranza insieme a un ordine del giorno del Partito Democratico Il trasferimento avviene a invarianza di spesa entro i limiti vigenti della capacità di assunzione della regione Parallelamente viene ridotto il contributo di funzionamento annuale destinato all'autorità nella misura corrispondente ai costi del personale trasferito Una legge significativa che va a rafforzare il ruolo dell'autorità portuale regionale e lo fa soprattutto valorizzando le risorse umane di quest'ultima Si tratta quindi di un atto importante che vuole modificare l'attuale assetto del personale dell'autorità portuale fatto essenzialmente da dipendenti propri e da soggetti di stacco in comando da parte di altri enti con personale che direttamente è riconducibile alla regione toscana Un'altra significativa modifica che con questa legge si fa alla struttura dell'autorità portuale è il riconoscimento del ruolo del suo segretario generale che viene individuato quale organo dell'autorità portuale e anche quale rappresentante legale della stessa Non abbiamo votato a favore perché c'è un passaggio che non ci convince che è quello che va a trasformare la figura del segretario generale in un ente interno all'autorità portuale Siccome il segretario generale è una figura che continua a mantenere un rapporto di lavoro con l'autorità portuale che a nostro modo di vedere è molto simile a un rapporto di lavoro subordinato ci lascia il dubbio una figura che al tempo stesso sia ente dell'autorità ma continui a svolgere un lavoro da subordinato è una singolarità in nessun'altra autorità simile avviene una roba del genere nelle autorità portuali nazionali addirittura c'è la doppia figura esiste la figura del presidente dell'autorità che è organo ente dell'autorità e c'è la figura del segretario generale che è un lavoratore esterno Parliamo anche di parking in particolare del Parco della Maremma perché l'aula di Palazzo del Pegaso ha dato l'ok al piano integrato vediamo L'Assemblea Toscana ha approvato a maggioranza l'adozione del piano integrato per il Parco della Maremma che come disciplinato dalla legge regionale è lo strumento di attuazione delle finalità dello stesso e comprende in due sezioni distinte gli atti di pianificazione e quelli di programmazione La quarta commissione ha intrapreso un percorso di sedute sul posto come è successo anche per quanto riguarda il Parco della Maremma di valutazione e votazione degli atti che ritengo molto positivo perché anche in questo caso qui abbiamo colto quanto tutti i soggetti che in qualche modo partecipano della vita del Parco della Maremma ne determinano le decisioni tutti gli enti comunali e provinciali che ovviamente ne fanno parte hanno una comunità di intenti piuttosto marcata che va di pari passo anche con una capacità in termini di bilancio che spesso si è distinta rispetto agli altri parchi di cui di solito siamo chiamati a discutere penso alle Alpi Apuane e penso ovviamente al Parco Migliarino San Rossore Si tratta dell'adozione di un importante strumento di programmazione e pianificazione di quell'ente che è stato concertato con gli enti locali cioè con i comuni come abbiamo potuto verificare svolgendo i lavori della quarta commissione direttamente presso la sede del Parco della Maremma diverse settimane fa ovviamente si tratta di un'adozione ci sono alcuni elementi che migliorano e probabilmente andranno a qualificare la promozione la capacità del Parco di produrre reddito ci sono una serie di interventi sulle infrastrutture ci sarà comunque il tempo per i cittadini per le imprese e per le associazioni per fare le osservazioni e quindi noi esprimiamo un parere diciamo esprimeremo un voto di astensione in attesa naturalmente di capire anche l'atteggiamento del territorio su questo strumento di governo del territorio Chiudiamo con le iniziative legate alla festa della Toscana l'ultima in ordine cronologico quella andata in scena in teatro al Teatro Aurora di Scandici con uno spettacolo dedicato alla memoria e all'influenza che ha avuto su tutta la nostra regione e non solo da parte di Don Milano Si chiude al Teatro Aurora di Scandici il programma delle iniziative del Consiglio regionale per la festa della Toscana dedicata quest'anno a Don Lorenzo Milani nel centenario dalla nascita con lo spettacolo Camelia Barbiana Don Lorenzo Milani e la sua scuola lo spettacolo che ha avuto repliche in tutta Italia è un racconto teatrale un monologo senza scenari né costumi e un gioco di luci ed ombre che narra la vicenda umana e spirituale di Don Milani da quando giovanissimo lasciò la sua vita comoda in una famiglia facoltosa e decise di farsi prete per prendersi cura degli altri e narra la storia di una scuola nei boschi una scuola che non vuole lasciare indietro nessuno in cui i ragazzi sorpresi dall'aiuto al loro dato un giorno videro un cammello volare sulle loro teste noi abbiamo deciso di dedicare la festa della Toscana quest'anno a un grande toscano Don Lorenzo Milani ai suoi messaggi di speranza i suoi messaggi di uguaglianza e siamo felici oggi che questo spettacolo parli proprio a quelle ragazze a quei ragazzi che tanto Don Lorenzo Milani amava il suo messaggio universale sulla scuola come fattore di crescita la scuola come luogo dell'uguaglianza la scuola quella scuola di Barbiana al cui ingresso è appeso I Care quella I Care che abbiamo voluto anche all'ingresso della nostra aula consigliare per dire a tutti di prenderci carico dell'altro delle relazioni umane di non voltarsi dall'altra parte ecco oggi voglio mandare questo messaggio alle ragazze e ragazzi non voltatevi mai dall'altra parte prendetevi cura dell'altro impegnatevi nella scuola e vorrei ringraziare le docenti e i docenti perché svolgono una funzione unica nella crescita di ciascuno di noi è una forza innanzitutto a tenere l'asticella sempre altissima quindi ogni volta mi interroga la sua frase chi sa volare non deve buttare via le ali per solidarietà con chi non lo sa fare ma deve insegnare agli altri cos'è il volo e oggi invece sembra che vediamo una cultura dove è a ribasso invece lui diceva tutto in alto quindi questa cosa ti interroga molto ti mette in crisi perché significa avere sempre un livello di dignità di confronto altissimo con i ragazzi poi non ne parliamo questi dunque erano i principali argomenti trattati dall'assemblea toscana nel corso delle ultime sedute l'appuntamento con la voce del consiglio e come sempre per la prossima settimana su RTV 38 grazie per l'attenzione e buona proseguimento arrivederci grazie per la visione